Il nostro calcio torna a dimensione nazionale con la seconda giornata di campionato. Oggi si è disputato un anticipo di Serie B, la Spalla ha battuto la Lazio per 2-1, l'incontro si è disputato a Terni per la squalifica del campo della squadra romana. Le reti sono state realizzate da Bigon al ventunesimo del primo tempo e dieci minuti più tardi dal centramanti Spallino Bergossi. Il gol della vittoria per la Spalla lo siglava al ventesimo della ripresa l'ala Tivelli alla sua terza marcatura in due giornate.